Francesco Totti tradisce Noemi. Spunta la verità sul rapporto tra i due. Dettagli hot di una relazione costantemente sotto i riflettori. L'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è nato sotto i riflettori. Lui reduce da un divorzio mediatico con Ilari Blasi, con cui è stato legato per più di venti anni. E lei per molti considerata la reale causa della rottura. Dopo l'annuncio della separazione l'ex attaccante della Roma e Ilari Blasi sono finiti al centro del gossip, protagonisti per mesi delle prime pagine di City e Magazine. Hanno subito una sovrapposizione mediatica tale che non poteva non coinvolgere anche anche Noemi Bocchi. Francesco Totti è infatti uscito allo scoperto e ha ammesso di avere una relazione con la Flower Designer. Poi ha raccontato alla stampa la sua versione dei fatti in merito alla rottura con la showgirl accusando l'ex moglie di averlo tradito per primo. Protagonista del documentario per Netfil Unica, Ilari ha rivelato come ha scoperto il tradimento dell'ex marito. La conduttrice ha reso noto alcuni dettagli degli incontri fugaci tra Totti e Noemi, e ha negato di aver avuto altre relazioni mentre era sposata. Diversi rumors accreditati rivelano inoltre che Totti non sarebbe stato un marito un fedele. L'ex calciatore avrebbe tradito Ilari diverse volte. Pettegolezzi che l'ex calciatore ha smentito e che ora ledono anche il rapporto che ha con Noemi. Non a caso in molti oggi si chiedono se il pupone tradisce anche Noemi. O se a lei è fedele. Qual è la verità? Ecco alcune indiscrezioni che circolano in rete. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono super passionali. Persone vicino a Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno rivelato che i due sono una coppia affiatata e super passionale. A confermare questa tesi la pagina di investigatore social. Esperto di VIP. Il profilo ha riferito. Nel suo seguitissimo box domande dedicato al gossip. Di non aver mai avuto segnalazioni su un presunto tradimento di Totti ai danni di Noemi. Incredibilmente no. Mai ricevuta nessuna segnalazione. Sono super passionali e innamorati. Inoltre è certo che i due sono molto affiatati e non riescono a stare lontano a lungo. Fanno l'amore tutti i giorni come due ragazzini? A commento investigatore social. L'esperto ha anche aggiunto. Se così fosse inizio a credere ad un futuro figlio. Totti e Noemi vogliono davvero diventare di nuovo genitori? Per ora si stanno godendo il rapporto di coppia. Si dividono tra il tempo da dedicare ai figli. Il lavoro. E il loro amore per ora sono felici e sereni.